Il lavoro svolto dal direttore del Parco archeologico di Pestum, Gabriele Zuck Trigel, raggiunge i migliori punteggi di performance, a dichiararlo è il direttore generale dei musei italiani statali, Antonio Lampis. Il mio punto di vista tecnico è documentato nelle relazioni di performance che atto con molta severità e che vengono pubblicate e devo dire che il direttore di Pestum è tra i primi nel raggiungimento dei migliori punteggi di performance, dopodiché posso anche dire che personalmente vedo l'impegno che fa ed è veramente straordinario, sono molto contento. Con lui abbiamo discusso anche dell'influenza dei social per la conoscenza dei musei statali e sullo stato attuale di salute. I dati dei social dei musei statali sono veramente incredibili, il Politecnico di Milano con il quale abbiamo una convenzione ci rende un rapporto trimestrale che è pubblico, lo potete vedere sul sito e la presenza sui social è veramente esplosa e anche in un dibattito che sentendo anche l'umore è un dibattito prevalentemente positivo, anche se come dico sempre per gli enti pubblici, per le istituzioni pubbliche è difficile comunicare perché dentro la testa di chiunque c'è piove governo ladro e quindi è facile la critica verso quanto è pubblico. Il fatto di avere invece un riscontro positivo è veramente un doppio merito per chi è riuscito a lavorare con i social. I social sono importantissimi perché il lavoro della comunicazione pubblica non può avvenire solo tra giornalisti che parlano a giornalisti, ma oggi bisogna bussare proprio il campanello delle persone e uno di questi campanelli si chiama appunto social media e quindi insomma è un tema da tenere molto molto in considerazione. Ci interessa sapere anche qual è lo stato di salute attuale dei musei italiani? Lo stato di salute dei musei statali è incredibile in questo momento perché in quattro anni sono cresciuti quasi del 27% i visitatori, il doppio della media dei turisti, quindi vuol dire che la metà di questo boom sono con cittadini italiani, gli incassi sono cresciuti oltre del 40% in quattro anni, quindi nulla dal punto di vista sociale ed economico ha questi livelli di crescita. Il tutto fatto con un organico che è circa la metà di quello che è previsto, quindi ha doppio merito per gli eroici direttori e soprattutto per i tanti lavoratori che lavorano sabato, domenica con stipendi bassi in condizioni difficili e con precarietà di sicurezza data dal tipo di palazzi antichi che non possono essere mai né super ben riscaldati né confortevoli.